Che significato dare all'esito delle elezioni russe? Con noi in collegamento da Parigi, Tatiana Stanovaia, del Centro di Tecnologie Politiche. Cominciamo a analizzare la partecipazione molto bassa in confronto al 2011. Perché? Effettivamente la partecipazione è stata più bassa del previsto. Ci sono molte ragioni. Innanzitutto rileviamo un aumento dell'apatia nella società russa legata a un peggioramento della qualità della vita, diminuzione dei salari e osserviamo anche una disaffezione nei confronti della politica in generale. C'è stata poi una strategia governativa. Per non contrastare questa tendenza, alcuni analisti ritengono che il potere centrale abbia creato le condizioni per aumentare il tasso da stensionismo, in parte è vero, se si considera lo spostamento delle elezioni da dicembre a settembre. È difficile raggiungere l'elettorato in estate e la campagna elettorale di tutti i partiti è stata poco incisiva, di poco contenuto, lontana dagli interessi reali degli elettori. problemi come lo sviluppo strategico del paese, la situazione economica, la politica estera sono stati tralasciati, anzi sono stati sorvolati. La retorica patriottica l'ha fatta da padrona. problemi economica, problemi di politica in generale sono stati tralasciati, oppure se sono stati tralasciati, in avanguardia è stata stata una ritorica patriottica e aggressiva. Probabilmente i risultati delle elezioni sono legati a questo. Ci sono gli stessi quattro partiti in Parlamento, ma la configurazione della Duma è cambiata. I comunisti hanno ridimensionato la propria presenza a vantaggio dei liberal democratici di Zirinovsky. L'esito delle elezioni è piuttosto significativo per Zirinovsky e senza dubbio legato a questa situazione iniziata, ricordiamo, quattro anni fa, non con gli eventi del 2014, con la crisi ucraina e quella della penisola di Crimea, ma due anni prima, quando Putin è stato rieletto presidente. A partire da quel momento il potere ha cominciato a giocare con i il sentimento di nazionalismo. Ricordiamo benissimo l'articolo scritto da Putin nel 2012 sul ruolo speciale della nazione russa. Certo, questa retorica, durata non due, ma ben quattro anni, ha fatto bene ai nazionalisti di Zirinovsky. Per i comunisti è stato più difficile in queste condizioni preservare il proprio bacino elettorale. Il dibattito sui problemi sociali è un rischio. Il potere non vuole che questo tipo di problematiche sia affrontato da altri partiti. Le regole del lagone elettorale sono dure, ma l'opposizione fa buon viso a cattivo gioco pur di conservare lo stesso numero di seggi in Parlamento. Strategia che non è riuscita. Hanno perso seggi e quindi influenza in Parlamento. Il partito, al potere che ha ottenuto la maggioranza, non ha bisogno oggi di fare allianze.